Burloni bentornati in questo nuovo episodio della Steamcraft Come state amici? Spero tutto bene Io sono veramente felice ed orgoglioso di portarvi questa serie Perché come ben sapete è la serie che amo di più in assoluto Ma prima di continuare vi voglio dire una cosa Ho letto tutti i commenti nello scorso video Nel quale mi avete consigliato che cosa fare in questa serie Dato che vi avevo detto datemi dei consigli Perché comunque ci sono poche cose da fare se non lato build Beh un commento che mi è piaciuto tanto che è di Mattia E Mattia mi dice Marci fai in modo che sia proprio il ragazzo server a decidere che cosa debba succedere Perché mi sembra di capire che in questo episodio tu ci abbia detto Che il ragazzo server ti ha dato delle idee da fare E tu vorresti sapere se noi dobbiamo dirti di sì oppure di no Effettivamente ho chiesto proprio questo ragazzi Il ragazzone mi ha dato un po' di idee per questa cosa ci stiamo lavorando eccetera eccetera Per aggiungere cosine e cose varie Ma mi ha detto domenica oggi è lunedì quindi considerate ieri Mi ha detto Marci ma che ne dici se me ne occupo io della Steamcraft Ho un'idea abbastanza interessante Che sono sicuro che ti piacerà tantissimo Gli ho dato senti ragazzo server fai quello che vuoi Voglio fidarmi di te Quindi amici ora dobbiamo leggere il libro del ragazzo server Che è all'interno di questa cesta Ma prima voglio un mi piace 3500 mi piace Sono tantissimi Ma sono sicuro che se tutti quelli che guardano i video Lasciano mi piace e commentano Questa serie la faremo volare veramente tanto Peraltro piccola parentesi ho aggiunto una piccola mod che cambia lo zoom Perché mi avete detto ragazzi che preferite quando c'è lo zoom con il canocchiale Beh questa mod qui Questa texture pack qui in realtà Emula proprio il canocchiale Vedete che figata Anche se avete qualcosa in mano ve lo toglie momentaneamente E vi fa questa roba qua È veramente troppo troppo bella E sì Carmelo l'ho rimesso giù perché non ne potevo più di vederlo là sopra Dov'è che è Carmelo? Adesso ci facciamo un girettino con Carmelo È là sotto Ma prima Allora intanto ci prendiamo la nostra shulker bellissima Perché altrimenti me la sono dimenticata Avete ragione Ma prendiamo il libro Gilda Vai ragazzo Io non so niente raga Cioè nonostante il ragazzo è stipendato dal sottoscritto Io non so assolutamente niente di quello che ha fatto Gli ho proprio lasciato piena scelta Vediamo se ci piacerà questa cosa Andiamo a leggere Ciao ragazzi Intanto che scrive ragazzi non è un buon presagio Qui il RS Sì sono il ragazzo server Vi ho aiutati ad entrare nella vanilla di Marci Scusa Marci non licenziarmi please Quindi sei stato tu che hai fatto entrare Nico Loco E Mark Li ho visti i vostri video Poi me l'avete detto voi di guardarli perché non era meta Perché alla fine avevo già fatto il video e li ho guardati Solo ed unicamente perché volevo mettervi in guerra L'un contro l'altro Ma in che senso ragazzo server? Cosa stai dicendo? Beh ho creato per ognuno di voi una gilda Che potrete potenziare effettuando delle missioni Potrete creare i vostri eserciti Ottenere poteri e oggetti personalizzati Non voglio dirvi molto ma lo capirete con il tempo La base della gilda di ognuno di voi L'ho messa nelle zone che vi siete scelti per stanziarvi Ognuno avrà il proprio colore E mob che lo rispecchierà Ma ora basta Vi ricontatterò io Ragazzo server Oh mio dio Ho un hype incredibile ragazzi In realtà non so dove potrebbe avermi fatto la gilda In realtà Anche perché non so di preciso come voglio fare questa gilda Il ragazzo server Ma l'unica cosa che mi ha detto è stata Marci metti la voice simple chat Che è questo che vedete sotto Perché in realtà ero entrato Ma non sapevo che gli altri le avessero messa Ma non serviva perché anche se non ce l'avevo Potevo entrare lo stesso Quindi ora dobbiamo capire Dove effettivamente potrebbe essere la gilda Quello che mi viene in mente E dov'è Carmelo che ve lo faccio vedere Eccolo qua Carmelo Vieni Carmelo Andiamo assieme Facciamo giungere assieme Dove potrei averla fatta Sapete che non Cioè io non ho scelto nessuna zona Io penso che Che lui intendesse gli altri Perché magari gli altri erano Se erano stanziati da qualche parte Può essere Io l'unica cosa che penso È che sia in quella zona lì Perché gli dissi una volta Voglio riniziare la vanilla Proprio in questa zona qua E quindi Sì Penso che sia questa la zona Andiamo a vedere Allora andiamo Eccola Il Creeper Mi è stato messo il Creeper Come oggetto Ok Vediamo un pochettino qua Ma c'è un orco Ma c'è un Ma c'è uno Questo è un orco raga Bro Bro Ok Bro Sarai il mio bro Tu Leggiamo Ma che bella questa scena dei dialoghi Ciao Marci Benvenuto nella gilda dei Creeper Ti piacciono i Creeper vero? Beh ovviamente ragazzi Sì Sono uno dei miei mob Cattivi preferiti Quindi ovviamente sì Benissimo Se ora mi porterai Un Wayfinder Armored Dream 16 diamanti Ed un Hand Crystal Ti donerò il crafting Per un oggetto molto speciale Ok Sono pronto Quando avrai tutti gli oggetti Sarò qui ad aspettarti Benissimo Che figata ragazzi Quindi adesso io devo andare a prendere Aspetta cosa che era Wayfinder Armored Dream 16 diamanti E un Hand Crystal Ma io ce li ho a casa Quindi vado a prendere Quelli che ho a casa Non mi ricordo dove ho messo Il Wayfinder Armored Dream In realtà Vabbè Ok Quindi andiamo a prendere Un attimino a casa Quello che mi è venuto in mente È che potrebbero essere Nelle Ender Ma che cavolo Ma Perché non posso entrare Nella mia base Raga Ma non Ma non posso entrare Nella mia base Raga No raga No Non ci creo Ho capito Il ragazzone mi ha bloccato Tutti gli accessi Le mie zone Non ci Aspetta ma io sto sprecando Un sacco di Di razzetti Che non ho più ragazzi Ok ho capito Ho capito Ho capito Va bene Il ragazzone ha preso sul serio Il fatto che Io non potessi più andare In questa zona momentaneamente Probabilmente Perché io Io l'ho detto Li faccio guarda Devo trovare un'idea Anche perché Se voglio iniziare La Steamcraft da zero Comunque devo iniziare Veramente da zero Lui l'ha presa Veramente sul personale Questa cosa Quindi mi toccherà andare A scavarmi diamanti Aspetta qualcosa Qua magari ce l'ho No qua e qua non ce l'ho Quindi 16 diamanti Un Wayfinder Armored Trim E non mi ricordo Che cos'era l'altro E 16 diamanti Un Wayfinder Armored Trim E un End Crystal Voglio solo vedere una cosa Il brush come si craftava Un secondo eh Un copper Una piuma E uno stick Io mi devo craftare tutto Cioè mi devo craftare tutto Ragazzi Ma porca paletta oh Meno male che non mi ha tolto Gli oggetti dell'inventario Quindi io parto sicuramente Un po' avvantaggiato Contro gli altri Quindi allora Tecnicamente Se non ho capito male In questo momento Gli altri sono dei partecipanti Della Steamcraft Io questa cosa Non la sapevo Infatti vorrei cercare Di dialogare con gli altri E vorrei capire una cosa Aspetta un attimo Quindi vuol dire che Se io vado in questa zona qui Dove c'era la casa Di Nico Esattamente Anche lui ha una gilda Degli Enderman Sembrerebbe Esattamente Degli Enderman E ha una tipa qua davanti Che si chiama Daphne Va bene Mettiamoci al lavoro Ci metteremo sicuramente Un bel po' di tempo Ma sono sicuro Che potremo fare Delle cose belle Sono molto contento Di questa cosa Che devo anche fare le cose Craftare le cose Quindi Prima cosa Andiamo a craftarci Un pennello Eccoci qua Con il copper Dobbiamo prenderci il copper Dobbiamo riprenderci il carbone Ragazzi Ma vi rendete conto Quante cose dobbiamo fare Tipo un sacco Dobbiamo farne Io sto cercando di sprecare Meno razzi possibili Perché Purtroppo Sì è vero Ho la farm di creeper Che è fuori dalla zona Quindi questa cosa Sicuramente è molto positiva Però Cavolo è lontana Adesso devo capire un attimino Come organizzare questa cosa Quindi bene Non ho del legno Anzi sì Il legno ce l'ho Perché ce l'ho Esattamente qua Dentro Che bello ragazzi Mi carica un sacco Questa cosa Ragazzi Sarve Approvo quello che hai fatto Nonostante Ti sei preso la briga Di far tutto da solo Approvo tutto quello che hai fatto Perché è veramente Molto carina la tua idea E darà un piglio in più Sicuramente alla steaming craft Anche se spero Che gli altri Siano d'accordo Con questa cosa Ma io penso che lui Era già d'accordo Con loro Cioè tipo Le ha detto Ma volete fare questa cosa Secondo me è bella Allora Mi serve anche Uno stick Quindi mi prendo Magari un pochino Più di legno Facciamo così Mi faccio sicuramente Un pezzettino di stick E mi prendo Un copper E posso sicuramente Farmi il brush Perfetto Io come zona dell'archeologia Ne conosco abbastanza In realtà Di conseguenza So già dove devo andare Quindi torniamo su Se non sbaglio Era più o meno In questa zona qua Perché mi ero segnato Delle coordinate Io l'altra volta Ed eccolo qua Avevo pienamente ragione Bene adesso Quello che dobbiamo fare Esattamente Ho messo sulla texture Quella per stare attento Con la suspicious sand Eccetera eccetera Perché già lo sapete Come è il signor March Che sicuramente sbaglia Ecco questa qui Già non va bene Qua bisogna stare molto attenti Perché è veramente molto veloce Il mio piccone E anche la mia accetta Peccato che non ho La pala quella in ferro Perché secondo me Sarebbe decisamente 100.000 volte meglio Fa meglio stare attenti Fare tipo così Strato per strato Ok già ne ho rotta una Molto bene Sono proprio contento Di questa cosa Oh sì No ragazzi Pensavo che fosse direttamente Un Un trim Sarebbe stato veramente letale Raga Dobbiamo dire la verità Sarebbe stato veramente incredibile Come cosa Cosa mi dai tu Hai un cartello Ma a me del cartello Non me ne faccio assolutamente niente Qua rompiamo tutto Guarda che bello Che qua ce ne sono già 4 3 ce ne sono Mettiamolo al primo slot dell'inventario E vediamo un po' Dai dammi il Wayfinder Per favore Cosa esce da qua Niente Da qui che cosa esce Oh ragazzi Sarà veramente tosta Sarà veramente tosta È il disco Mi è uscito il disco Che quasi quasi Me lo tengo ragazzi Perché dovete considerare Che è come se riniziassi Praticamente da zero Quindi Se cose rare Me le tengo molto volentieri Che cose Eccolo Eccolo È il Wayfinder Non è il Wayfinder Mi sa È lo Shaper Armor Trim Ah mannaggia ragazzi Che sfortuna Sarebbe stato incredibile Sarebbe stato veramente incredibile Così il primo colpo Praticamente Però dai Va bene Non Non demordiamo troppo Ne abbiamo da aprire un bel po' Attenzione che questo potrebbe Ma questo è un frammento ragazzi Eh I frammenti posso anche prenderli Cosa lascio Che lascio raga Li stick Lascio Lascio gli stick Lascio qua Lasciamo gli stick Va bene Qua ce n'è un altro Devi darmi per forza L'Armor Trim Che mi serve Campione Perché se no Veramente sono fritto Guarda che è un Armor Trim È un altro frammento Quello col curicino Che fai Non lo prendi Questo è un Trim Attenzione Questo è il Wayfinder Mi sa ragazzi Attenzione Wayfinder Armor Trim Ora Direzione diamanti Sto andando Sto cercando di andare Più in basso possibile Sento dell'acqua Dov'è l'acqua Eccola qua L'acqua Perfetto Oh diamanti Subitissimo Questo è quello con fortuna Assolutamente sì Possiamo buttare questo 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 E questo Che non ci servono Me ne servono solo 16 Quindi 1 E 2 Quanti me ne hanno dati? 2 Cioè questo è quello con fortuna Hai capito la mia fortuna? Qual è? Cioè Boh Vabbè Lo spawner mi mancava Eh Name tag Spacchiamo questo E andiamo avanti Ragazzi Sono a secco di diamanti Non scherzo Sto cercando Da veramente Un botti diamanti Zero Zerissimo Oh C'è di tutto Oh diamanti Eccone qua un altro Quanti me ne hanno Quanti me ne hanno dati 2 Cavolo Va bene Va bene Ancora diamanti Quante grosse Sta bene Attenzione ragazzi Sono le vene Che beccavamo Ai tempi Vi ricordate Quelle vene giganti Assurde Quanto siamo? Siamo a 17 Siamo già a posto Di diamanti Bene Ci serve solo Land crystal Solo Solo Land crystal Sì La mia unica preoccupazione Adesso è Dove fare il portale Perché non si deve unire All'altro Quindi io direi di farlo Magari in questa zona qua Poi ci costruiamo qualcosa Di carino qua Che deve tipo portarci Non lo so Adesso vediamo 1 2 3 4 E 5 1 2 Vediamo se mi basta 1 2 3 4 E no Non ci bastano Ragazzi Ne abbiamo Aspetta No Sì Va bene Basta fare così Ecco Come non detto Va bene Marci Complimenti Cioè vabbè Ma si può sbagliare Va bene Ok Però il flint and steal Ce l'abbiamo Io sicuramente Sono messo meglio Rispetto agli altri Però Oh È la mia serie Quindi va bene Che sono un po' messo meglio Dove mi fa spawn No Mi fa spawnare In quello di casa E mo ragazzi Come facciamo Probabilmente mi fa spawnare In quello di casa No Non mi fa spawnare In quello di casa Mi fa spawnare nell'altro Vabbè Amen ragazzi Ci serve un ender eye Allora L'ender eye è Un ender pearl E una blaze rod La blaze rod La troviamo Nella farm Di blaze Ovviamente Nel chilling più totale Dovremmo avere già Delle robe Nelle ceste Vediamo un po' Se è così Guarda Ne abbiamo già uno Mi va benissimo Invece Il bioma blu Ehm Ho un due Esatto No Non è vero Perché questo non è Bioma blu Questo è quello che ho creato Direttamente io Quindi Ecco sì Vedete Mi ricordavo Della maniera più corretta Possibile Qua dovrebbero spawnare Degli enderman E andiamo a ammazzarli subito Eccone qua uno Eccone qua tanti Volevo dire Li ammazziamo con l'accetta Perché almeno Non Usiamo Il fire aspect Quindi facciamo così E facciamo E non mi uccidere te Oh Dove sei? Dov'è quello che mi attacca adesso? Dov'è? Mi venivo qua Brutto cattivone Devo mangiare ragazzi E' che quale si rischia di morire Abbiamo bisogno però anche di un ghast Da dove? Bene Vediamo se riesco Ad avvicinarmi a lui Eh però C'ho l'inventario pieno Buttiamo via Questo e questo Come faccio ragazzi A L'ho perso E' sotto di me? Sì Dammi la gastiera Me l'ha data? Al primo colpo? Mamma Che fortuna Ma vi rendete conto? Bene Torniamo a casa adesso va E sì La preoccupazione più grave A parte che Se entro da questo portale qua In teoria dovrebbe essere ancora meglio Vediamo un po' dove ci porta Questo portale Io non ne ho idea ragazzi Non so dove ci possa portare Ma non vorrei rischiare Ok Siamo in caverna Quindi Meglio teasere l'altro Non penso che questa sia la mia base Come Come dire Non Non ne sono sicuro che questa qui sia la mia base Ma dove siamo ragazzi? Siamo a meno 40 Ma che state dicendo raga? Mettiamo a cuocere la sabbia per bene E poi dobbiamo avere Già tutto pronto in realtà Perché ci servono 16 di questi Poi ci serve Abbiamo detto Un wayfinder armature In peccato raga Questo me lo sarei tenuto molto volitile E peraltro anche la farm di La farm di cibo ragazzi Ce l'abbiamo dentro Dobbiamo rifare tutto qua Dobbiamo rifare tutto Va bene abbiamo questo Questo Mi serve l'ender eye Facciamolo subitissimo l'ender eye Eccolo qua Per fare ovviamente L'end crystal Quanto ce ne serve di vetro? 3 6 7 7 Fatti E qua facciamo direttamente il nostro end crystal Quindi abbiamo tutto Bene Andiamo da lui dicendo che siamo prontissimi Per ricevere tutto Quando avrai tutti gli oggetti Sarò qui ad aspettarti Ho tutto Vediamo un po' se va Ok Ah oddio Complimenti Marci Hai sbloccato il crafting Del tuo medaglione E questo crafting Esattamente Che cosa È Ok È il nostro medaglione Non ho ben capito che cosa fa Ma penso che lo faremo Nel prossimo episodio Ragazzi Lasciate tanti mi piace Oggi porca paletta Abbiamo fatto un sacco di cose Spero che il video vi sia piaciuto Voglio andare direttamente a fare qualche scherzato ai miei amici Nel prossimo episodio Sappiatelo